Ciao a tutti! Oggi prepariamo insieme una crostata con le mele e il potone. Cominciamo per prima a grattugiare due mele e il potone, tagliamo la mele e il potone a metà. Tiriamo via i semi. Adesso grattugiamo le mele. Le mettiamo dentro in una pettola. Ecco qua! Ho finito di grattugiare le mele e il potone. Abbiamo ottenuto 600 g di mele e cotonia grattugiate. Mettiamo 200 g di zucchero bianco. Giriamo un pochino. Cogliamo le mele e cotonia per fare pieno alla crostata. Le mele e cotonia sono cotte, adesso le mettiamo da parte e le lasciamo raffreddare. Iniziamo la preparazione per la crostata. Usiamo tre uova, uno intero e due torli. Mettiamo 130 g di zucchero di cana. Lavoriamo con la frusta, le uova e il zucchero. Mettiamo 50 ml di olio di girasole. Mettiamo 30 ml di latte intero. Aggiungiamo un cucchiaino di lievito per i dolci. Aggiungiamo un pizzico di sale. Adesso grattugiamo una buccia di limone. Mettiamo 400 g di farina 00. Setacciamo 400 g di farina 00. Setacciamo 400 g di farina 00. Impastiamo 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 400 g di farina 00. Le cotte sono fredde. Adesso le mettiamo in un piatto. Impuliamo un stampo di 27 cm. Mettiamo un disco di carta forno sotto, così. Divitiamo l'impasto. Mettiamo come fondo un po' meno di metà. questa parte qua. Spendiamo l'impasto. Ed è chiaro. Grazie a tutti. Formiamo due cordoncini per fare una treccia. Grazie a tutti. 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 Mettiamo a cuocere la crostata nel forno a 160 gradi, forno ventilato. Prostata è pronta, lo lasciate a cuocere nel forno per 35 minuti. Mettiamo la crostata. Mettiamo la crostata. Mettiamo la crostata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.